Siamo qui con Simona Sudini a vedere Freedom Pinerolo, che gara è? Buonasera, è una gara abbastanza giocata sia dal Freedom che dal Pinerolo. Ovviamente Pinerolo alla meglio, una squadra anche un po' più di esperienza forse per quanto riguarda questa categoria. Comunque sono due anni che lotta per il vertice, quindi se la stanno giocando siamo sul 2-0 al primo tempo, ora potrebbe rientrare una Freedom vogliosa giustamente di riscattarsi e di riprendere il risultato in mano. Risultato giusto? In questo momento trovo più tecnica dalla parte della Freedom, più fame e forza fisica da parte del Pinerolo. Parlando di altro, chiedo come va questa nuova esperienza da procuratrice? Direi bene, abbiamo iniziato da poco l'agenzia La Start Group, ovviamente abbiamo diversi atleti, più di 100 atleti professionisti e non maschi e femmine, io curo appunto la parte femminile e abbiamo messo su inizialmente un bel gruppo di ragazze giovani di prospettiva e che tra l'altro qua ne abbiamo due, una per parte e quindi siamo venuti appunto per visionare, per controllare, appunto per guardare i progressi. Fa sempre piacere tornare a Cuneo? Beh, che dire, non fa piacere di più, questo è un campo dove ci sono tanti ricordi, emozioni, dove c'è stata appunto la massima serie, dove si è giocata la massima serie, ricordando appunto il Cuneo in Serie A. Personalmente, che dire, se non tante emozioni vengono i brividi. Ricordo anche la nostra dirigente che non c'è più, Alessandra Witzel, e quindi ci sono un insieme di emozioni che tornano alla mente. Grazie. Grazie.